Con il progetto Casa Ninna Mamma aiuteremo donne e bambini che vivono nella provincia di Gaza, in Mozambico, in cui il tasso di analfabetismo è altissimo e la malnutrizione è la regola. La situazione è ancora più difficile per le donne costrette a crescere da soli i propri figli, quando i loro uomini emigrano verso le miniere del Sudafrica. Aiuteremo donne e bambini in zone in cui le strutture sanitarie sono quasi inesistenti e le aspettative di vita degli abitanti sono scese da 41 a 37 anni, a causa della diffusione del virus dell'HIV.